Pelufo, come al solito, il sole bacia la riviera, bacia Noli. In questo bellissimo borgo, tanta gente, tante manifestazioni, ma soprattutto una bella spiaggia. Sì, per fortuna per il secondo anno consecutivo siamo riusciti a riprendere la bandiera blu. È stata una bella sorpresa di pochi giorni fa, ci tenevamo tanto e il fatto di esserci riusciti è un po' il coronamento dello sforzo che abbiamo fatto in questi anni per migliorare sia le spiagge sia tutti i servizi collegati. Quindi una serie di manifestazioni estive, non diciamo quali, ma diciamo la vita Noli anche la sera, la notte sarà molto attiva. Sì, praticamente tutte le sere ci sarà un evento cercando di soddisfare il più possibile tutte le esigenze. Quello che vorremmo fare, quello che stiamo facendo in questi giorni, che faremo in altre occasioni durante l'anno, sarà cercare di valorizzare il nostro mare per tornare a quell'argomento. La nostra intenzione è quella di dare spazio a tutte le iniziative che possono in qualche maniera far vedere quanto è bello e quante cose può offrire il nostro mare sopra e sotto. Qui vicino a noi c'è una serie di foto di fondali assolutamente splendide, prese proprio qui davanti a Caponoli. A luglio ci sarà un'edizione di un campionato nazionale di apnea, quindi sono numerosi gli eventi in cui il mare è al centro dell'attenzione. Grazie. 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 Grazie.